questo qua le fioi di campagna anche chi va per estrarre le cortina col panino in mano chi stiamo ospitando luca la duchessa che è andata a fare le spese in piazza cortina ecco guardate la duchessa la duchessa sta arrivando passo che passo guardate che passo quel cappello sta arrivando dalla piazza di cortina che è andata per lontare la spesa eccomi il nostro mortino ecco ecco